Emanuele Cicerelli alla Catania con un bel sorriso e con tante motivazioni. Sì, tante motivazioni perché ho passato un periodo più brutto forse quest'estate della mia carriera e quindi sono qui con tanta voglia di riscatto e tanta voglia di rimettermi in gioco e di tornare a combattere la domenica. La consacrazione vissuta in Serie B, circa 150 presenze, poco meno, con maglie prestigiose, importanti e con conquiste particolarmente significative come la promozione con la Salernitana in Serie A che rimane, presumo, la soddisfazione più grande fin qui della tua carriera. Sì, quell'anno è stato il più importante, sicuramente abbiamo raggiunto un obiettivo impensabile all'inizio con la forza un po' dell'ambiente, del gruppo, si è creata un'unione straordinaria con tutto il contesto e quindi siamo riusciti a raggiungere un obiettivo storico e sì, quegli anni li ricordo con particolare affetto, ci tengo molto. Cicerelli esterno d'attacco prevalentemente, ma non solo, e questo si sposa al meglio con l'idea di massima d'utilità richiesta da mister Lucarelli ai suoi uomini. Sì, sono uno che in carriera ha fatto diversi ruoli, ho fatto l'esterno d'attacco, ho fatto anche il quinto ho fatto la mezzala, anche qualche volta la seconda punta, insomma, e ho giocato in parecchie posizioni quello comunque che mi chiederà il mister sicuramente, cercherò di metterlo in pratica con tutta la voglia e la disponibilità di questo mondo. Il mister è un trascinatore, si vede comunque molto legato alla piazza e mette a proprio agio i suoi giocatori, per me questo è molto importante perché quando si arriva in un ambiente nuovo essere a tuo agio è molto importante, puoi essere il giocatore più forte del mondo ma se non sei a tuo agio non rendi. Invece io qui ho trovato una grande accoglienza anche da parte di tutti, devo dire la verità, il mister mi sembra molto diretto, molto empatico e mi ha fatto una bella impressione. Cosa pensi di poter dare a questa squadra in particolare? Io sicuramente posso dare appunto la mia disponibilità, la mia voglia, perché quello comunque che posso dire che ho sempre avuto è stato il fuoco, comunque quando vai in campo di dare tutto, fino ai crampi e anche di più se si riesce, quindi sicuramente questo lo metterò a disposizione dei miei compagni, poi metterò a disposizione quelle che sono le mie qualità e comunque vado a completare una squadra che secondo me è già molto forte e adesso bisogna cambiare rotta perché questa squadra può fare cose importanti e ci dobbiamo credere giornata dopo giornata, mettere mattone dopo mattone e fare cose importanti perché è quello l'obiettivo. Come sta Cicerelli? Devo dire la verità, sto molto bene, sicuramente mi manca un po' di partita, ma quella è la domenica, non ho potuto viverla questi mesi perché come sapete la Lazio non ha giocato, però mi sono allenato, mi sono allenato bene, quindi infatti è già un po' che mi alleno con loro e devo dire che sto abbastanza bene e quindi sono fiducioso.